Sindaco, una nuova avventura, ma partiamo dalla campagna elettorale. Come è stata? Una campagna elettorale è sempre un momento particolare che in qualche modo per scelte, per posizionamenti, tende un po' a dividere la comunità, tende a dividere il Paese. Per fortuna non è stata una campagna elettorale dai tuoni molto accesi, né tantomeno ci si è prestati ad insulti o a cose che possono comunque ingenerare strascichi che poi lasciano delle scorie. Quali sono i primi programmi da effettuare? Il primo impatto è quello di vedere la situazione economico-finanziaria, che già sapevamo, sofferente, ma che già in questi primi 15 giorni di amministrazione si è rivelata in tutto il suo allarme. È nelle priorità di questa amministrazione trovare una giusta soluzione per quanto riguarda il problema dei loculi cimiteriali, perché non possiamo andare avanti con le ordinanze, non possiamo lasciare anche chi perde un familiare in condizioni di stress. Quindi questa è un'altra delle cose che dobbiamo affrontare nell'immediato. A questo punto ha scelto già gli assessori? Gli assessori li ho scelti, abbiamo, mi permetta di fare un piccolo passo indietro, abbiamo scelto gli assessori e gli assessori, tre di questi qua, sono stati eletti nel Consiglio Comunale, ma per spirito di squadra hanno scelto, abbiamo scelto insieme, di affrontare un percorso che possa essere il massimo della condivisione. Infatti tutta la squadra è impegnata. Gli assessori si sono dimessi dal Consiglio Comunale e hanno lasciato spazio ai colleghi consiglieri, tranne l'assessore Nino Leone che era già designato e non era in lista. Quindi abbiamo Nino Leone che si occuperà in linea di massima di foreste, di ambiente, di acquedotto. Queste sono intanto delle deleghe principali che poi andremo ad ampliare nel corso della nostra amministrazione. Poi abbiamo Mimmo Di Toro che è vice sindaco e si occuperà di sport, turismo e spettacolo. Poi abbiamo Maria Francesca Milazzo che si occuperà di istruzione e servizi sociali e del personale e l'assessore Salvatore Duga che si occuperà di urbanistica, lavori pubblici e infatti il cimitero che è una delle nostre note dolenti in questo momento che dobbiamo risolvere.